Partiamo dalla fine, dalla festa in campo, immagini bellissime, ci incontri avete fatto qualcosa di leggendario, grandissimo gruppo e grandissima salvezza. Sì, grandissimo gruppo, siamo partite da zero pensando di neanche vincere una partita e invece adesso ci troviamo forse all'impresa più grande per noi e siamo veramente contenti. Adesso qual è l'obiettivo della Sampdoria, la salvezza, grande obiettivo stagionale, è stato raggiunto? Adesso le proviamo a vincerle tutte perché comunque non abbiamo più limite ormai. Due parole su anche su il mister che è come col collante di questa squadra. Quanto è stato importante? È stato tanto importante perché subito all'inizio, dal 15 luglio, ci ha subito trasmesso tranquillità, serenità, ci ha subito fatto sentire una famiglia e questo secondo me è stata la cosa più importante di tutti.